Corazione! Ho paura. Stai evidente, Vale? Oggi siamo più a casa. Quanto richiede la cu... Qual è? C'ha la freccia messa in data, ricordiamocelo. Devo guardare lei, io guardo solo lei. Me, solo me. Anche perché sei la cosa più bella che c'è. Un uso alternativo dello zafferano? Pasta, fagioli e zafferano. Io l'ho fatta. Non era un cracker. Ora senti ma, no bici. Ma che lei. Ma che lei.